Ha coinvolto centinaia di utenti social che hanno mostrato palmi delle mani tinti di blu la promozione dell'evento Blue Day 2016 finalizzato alla conoscenza dell'autismo, realtà conosciuta da pochi e di cui la comunità recentemente ha cominciato ad interessarsi più intensamente. Quell'autismo viene definito come un disturbo generalizzato dello sviluppo che rispetto alla gravità patologica presenta delle compromissioni, compromissioni a livello sociale per cui i bambini che poi saranno grandi, ragazzi, adulti, non hanno interesse nell'interazione con i pari e con il mondo, compromissioni a livello cognitivo per cui che sono manifesti a livello operazionale a disabilità accademiche e di etichettamento e categorizzazione della realtà. Vengono appunto implementate delle strategie di variazione comportamentale tali da migliorare significativamente la vita dei bambini, ragazzi e adulti con autismo e delle loro famiglie. L'evento a Gela è un'iniziativa delle associazioni Oltre il Muro e il Labirinto di Carta con il patrocinio del Comune di Gela. Quest'anno due associazioni insieme collaborano per la realizzazione del Blue Day 16. Per la prima volta a Gela si organizza un evento a livello cittadino, in tutte le città d'Italia ma anche del mondo ci si accende di blu, quindi quest'anno anche Gela vuole aderire a questa iniziativa. Saranno tante le attività proposte il 2 aprile, partendo dalla mattina in cui ci sarà una tavola rotonda al Teatro Eschilo che comincerà alle ore 9, in cui ci sarà il primo incontro serio tra associazioni, scuola e genitori, quindi questi tre contesti di vita abitualmente frequentati dai bambini autistici si incontreranno per un confronto serio e per raccogliere un po' le stanze del nostro territorio. Di sera invece già alle 19.30 comincerà una festa in piazza perché abbiamo voluto evitare una sensibilizzazione triste, ma proprio abbiamo voluto realizzare una festa per le nostre famiglie e i nostri bambini. La chiesa sarà illuminata di blu, come tutti i palazzi del mondo più importanti, e comincerà la notte blu. Grazie alla partecipazione e alla collaborazione del Consorzio Gela Centro e del patrocinio di Gela, del Comune di Gela, ci sarà appunto la notte blu. È una grande manifestazione che abbiamo organizzato come Comune di Gela per la tematica dell'autismo. È la prima giornata effettuata sul Corso Vittorio Emanuele tramite l'aiuto del Consorzio Gela Centro a sfondo sociale. È una grande giornata che sarà non solo di riflessione sulla tematica dell'autismo, ma anche per quanto riguarda una giornata di divertimento per i tanti bambini e le tante persone che speriamo scendano numerosi anche dal comprensorio.